E allora, signor Ministro, quella di Cutro, ripeto, non è una vicenda inevitabile, non è un naufragio inevitabile, è una strage, una strage che poteva essere evitata. Eppure, vede, in quella strage ci sono molti naufragi. C'è il naufragio di una politica, quella dei porti chiusi, quella degli accordi con la Libia, quella dei blocchi navali sbandierati in campagna elettorale, tante e tante volte, ovviamente, mai applicati. Quella dei decreti che nel 2018, come oggi, rovesciano l'ordine del discorso, rovesciano il mondo, dichiarando guerra che si organizza per salvare le vite nell'assenza dell'Europa, dell'Italia e delle istituzioni che dovrebbero svolgere quel lavoro al posto di chi lo fa, organizzandosi autonomamente. E poi, vede, c'è il naufragio delle parole, il naufragio di una propaganda intera, costruita come una vera e propria impresa politica ed elettorale. La costruzione del nemico, la retorica dell'invasione. Signor Ministro, signori e signore del Governo, eccoli lì i nemici, gli invasori, in fila chiusi dentro delle bare. Sono quelli i nemici e gli invasori da cui le politiche di questi anni hanno cercato di difenderci.